Reaction, così, dal nulla, è un po' che non ve ne portiamo. Sì, perché ci eravamo persi tipo tutti i file. Le reaction ai vostri mazzi, quella serie che dovevamo portarvi sempre ogni 3x2 che invece ci siamo lasciati un po' indietro. Ma mi raccomando, voi non demordete e continuate a uscirci i mazzi in chat, che io voglio vederli i vostri mazzi. I bei mazzoni, oggi abbiamo un bel mazzone proprio per te, bello imponente, un Gishat Sans Avatar. Di Magic Ticino Commander, un nostro iscritto che ci ha già mandato un sacco di mazzi. Assolutamente, assolutamente. Io direi di partire, mi aspetto tanto. Moltissimo, ci aspettiamo da questo mazzo. Bella questa versione di Gishat, ovviamente ragazzi la qualità è bassa, è quello che è. Questo mi piace tantissimo, Fadispover 5, bello bello bello. E vi siete beccati da Dektech di Pantlazza qualche tempo fa, quindi sapete quanto quanto è forte questa carta. Oh, è tali con i cereali. Che bello, che bello, che bello. E ne approfitto un attimo ragazzi per chiedervi scusa. Alcuni di voi ci chiedono, ma posso mandarvi la lista del mio mazzo? Ragazzi capite che reagire alla lista di un mazzo non è poi così eccitante, youtubicamente parlando. Noi piace vedere le vostre carte. Ci piacciono le art, ci piacciono le cose visive. Intanto andiamo avanti con Galta. Galta, bene, continuiamo la serie. La serie Secret Lair, ci sta, ci sta. Trask, bellissima carta, bella quest'arte. Tra l'altro preferisco quella normale, devo dire. Anch'io, però comunque ci sta. Ovviamente ragazzi, vi lasciamo poi nel caso la lista del mazzo giù nel primo commento in descrizione. Adesso vedremo come fare. Tremple, i giocatori non possono guadagnare vite. Non lo conoscevo, costo 3, 4, 3. Bello, mi piace. Assolutamente, ottimo. Mazzotribile di un osorio. Io, Fusauro. E' lasciabile quello con tocco letale. Bene, 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 bene. Tirannax, Atrocity. Bella questa versione. Poi è una carta molto polivalente. Sì, direi di sì, quindi bella averla così. Sun Free Limitator, non lo conosco. Quando attacca, puoi farlo diventare copia di un altro dinosaurio. Una donna di Commander, quindi non esiste foil. Bella la full art. Sempre la dedizione, la dedizione. Sì, Zetalpa. Una delle mie carte preferite di sempre. Bello, Raging Raptors che prende le tre base foil. Tempo, l'altisauro. Bello. Non lo adoro, però è una bella carta. L'abbiamo tolto da poco nella nostra versione, ragazzi. In certe situazioni ci sta. Ok, 2-2 volante M&A. Va bene, Zakama. Zakama, tanta, tanta roba. Allora, noi abbiamo deciso di non inserirlo perché non stappa le terre, visto che non lo lanciamo se entra con Gishat, ma oggettivamente è una carta fantastica. Assolutamente. Tanta, tanta roba. Bronzeback Foragers. Ottimo, bello. Full art è tali, bello, 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 bello. Questo ce l'hai tu così, mi sembra. Quindi non è delle mie versioni preferite. No, preferisco anch'io l'art che ho messo sempre in pantlazza, signore e signori, che potete trovare sul canale. Andiamo avanti. Bello, questi qua sono fortissimi. Io quando sono usciti veramente ho detto, questa è una bella carta. Tanta, tanta roba. Full art foil. Un pronto d'onte. Ci sta. Assolutamente sempre utile. Titanos Rex, quello che cicli e mette un segnerino travolgere, visto che giochiamo roba grossa, tanta roba. Galta e Madren. Allora, anche quest'art sì, come prima, belle, ma non mi fanno dire molto. Intanto comunque fino ad adesso è il mazzo spettacolo, naturalmente, un mazzo dinosauri classico che va benissimo giocato così. Palani Satcher, quello che dà rapidità e fa le pedine. Bello, bello, bello. Vediamo se giochi più. Galta, Stampe Tyrant. Bello, bello. Fai il full art così. Ci sta così, eh. Sai che dobbiamo ancora prenderlo. Lo prenderemo. Grazie a questo video che ci ha fatto venire in mente. Assolutamente, ci ha fatto ricordare. Questi video servono tantissimo. Curious Altizor. Che carino. E' un'altra roba, questa l'abbiamo comprato, si vede nell'ultimo money vlog, ma non l'abbiamo ancora inserito in D-Shot. Visto, visto. Bene, andiamo avanti con un'altra parte. Aggiungi Mana. Ah, qua, penso sia RepertoRamp. Bella. Bellissima. Bella questa versione qua. Tanta, tanta roba. Complimenti, mi piace un sacco. Tantissima roba, un Secret Layer. Cos'è? Tanta, tanta roba. Sì, sì, è un Secret Layer. Sì, sì, assolutamente. Bello, 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 bello. Complimenti. The Lighted Halfling. Di lui ne ho 1500 versioni. E vanno sempre bene. Full Art, non Full Art è un'altra bella staple per Commander Rominentron. Una delle mie carte preferite. Sai che non l'avevo mai considerato in Dinosauri e ne abbiamo uno in più? Eh, bisogna inserirlo. L'abbiamo comprato l'altro giorno, non potremmo anche pensarci. Oddio in Yaroq, però. Siamo indecisi, ragazzi e ragazzi. Oppure ne compriamo anche un altro. Lo mettiamo in Gishat o lo mettiamo in Yaroq? Votate nei commenti. Bop promo. Bello, tanta roba. Bello, bello, bello. Cariatide, ok, che ha due mana, visto che abbiamo le creature grosse. Questo che riduce i costi del spell, non l'avevo considerato, sinceramente, ottima cosa. Interessante, ottima scelta. Come mai non foil? Eh, male. Non c'è tutto foil in questo mazzo fino adesso, però quello che c'è foil mi sta piacendo davvero, davvero. Certo, ma, come al solito, Elfidi, Lano War, bellissimi, bellissimi. Bella. Oh, la ranocchia, la ranocchietta. La ranocchia, carina. Carina, questa piace davvero, davvero a tutti, ragazzi e ragazzi. È troppo bella, è troppo bella. Quanta roba. Allora, poi che cosa abbiamo? Elfo mistico. Elfo mistico, quest'arte non mi dice molto, devo ammetterlo. Questo qui è bellissimo, che riprende i dinosauri. Canjali. Questa riduce i costi, ok, benissimo. Dockside, Dockside, Extortionist. È un foil, è un foil. Sì, è foil. Direi proprio di sì. Perché grazie al buon Groovy Jimmy abbiamo imparato. Abbiamo scoperto che se c'è la stellina sotto, allora è foil. Gioca Magic da 50 anni, Groovy Jimmy ci gioca da meno di un quarto dell'ottavo della metà. Passate dal suo canale, ragazzi e ragazzi, ovviamente. Uno dei migliori youtuber attualmente su YouTube Italia di Magic the Gathering. E mi insegna cose nuove che il buono Mega non conosce. Passiamo alle terre base. Oh che bella. Ovviamente. Già l'altra volta forse aveva queste, o forse mi sto sbagliando nel caso, chiedo scusa, recuperatevi le vecchie reaction. Non sono tutte uguali, ma bella questa. Questa è quella delle script player. Che troppo carina. C'è nel mio mono bianco full foil. Sì, sì, è troppo bella. Tanta, tanta roba. Mi piace un casino. Bella quella Galaxy. Sì, allora, le Terre Galaxy sono tra le mie preferite. Assolutamente. Ne ho qualcuna, ma voglio fare tutto il reparto perché sono troppo belle. Sì, veramente, veramente. Bravo, bravo, bravo. Tanta roba. Complimenti. Ok, la montagna. Altre montagne. Queste foil. Bella quella di Jurassic Park. Ci sta, ci sta, troppo a tema. Spettacolo, spettacolo, spettacolo. Ne abbiamo ancora da vedere, assolutamente. Uh, ecco. Siamo alle terre non base. Abbiamo ovviamente la shock. Abbiamo ovviamente fetch non foil. No, 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 no. Perché ci sono il puntino. Uh, bella expedition. Non foil anche lei, ma sempre expedition. Full art. Mesa. Benissimo, benissimo. Command Tower, bellissima. Command Tower di Jurassic Park. Questa l'ho messa in Ghiruda, però è doppia. La tengo girata dall'altra parte. Forse non è quella doppia, non mi ricordo. Temple Garden, The Secret Player. Tanta roba. Che purtroppo non esiste foil la Temple Garden, The Secret Player. No, no, è vero, è vero. Questa però non è foil. No, questa dovevi farmela vedere il foil. Questa andava forte. Sono io l'unico animale al mondo che ne ha comprato due. Colline boscoose. Colline boscoose. Poi magari nel frattempo le ha pimpate diversamente. Nel caso faccelo sapere. Più o meno ce l'hai mandato tantissimo tempo fa. Ripeto ragazzi, ci scusiamo, le reaction riprenderanno. Quindi rimanete sintonizzati e supportate la serie. Arriviamo ad almeno 80 like per un prossimo video. E mandateci mazze in chat. Assolutamente, andiamo avanti. Cavern. Se lei vuole vedere i vostri mazzi, Cavern. Assolutamente, assolutamente. Questa versione l'ho presa anch'io, l'ho presa a foil così. Però, oh, non mi piace. Non mi piace. Ma a parte che io non sono grande fan dell'Expedition in generale. No, beh, perché i Kakano, Pibosei Ju, foil, queste foil, tanta roba sta. Ormai sta un casino. Infatti quando l'abbiamo sbustata nel Twerkabox di Kamigawa, eravamo contenti. Tra l'altro quasi come nell'ultimo Twerkabox dove Idra ha l'ultima carta. Cioè, spettacolo. Spettacolo, signore, signore. Table Passage. Devo prenderne un po' di lei, ne abbiamo pochissime. Verdant. Easy. Prismatic Fist, anche il di lei ne abbiamo poche. Marshfletts, Full Arts, ne abbiamo anche noi così. Expedition. Wings Wated, che non sappiamo mai leggere. Bravissima, ti metti tutte le fetch e le shock. Ci sta. Ottimo. Expedition. Ancient Tomb, bella. Ogni volta che facciamo un ordine più o meno ne buttiamo dentro. Perché ragazzi, in ogni mazzo gliela butti dentro. Allora, qua c'è il mio reparto, gli incantesi. Magari non sono incantesi, ma vi ho visto solo al library. Una silva al library. Lentax. Oh, bella la Lentax. Ovviamente questa, ragazzi, non è giocabile a bordo dorato, ma bellissima da collezione. Ne ho anch'io un bel po' di carte così e me le tengo dignitosamente strette, più in condizioni belle che posso. Frammenti d'aura. Bella carta che noi abbiamo tolto. Noi ti chingegni, non ti quella che pesca, fai pesco scar? No? Quando uno o più dinosauri attaccano, crea altre... Aspetta, questa non la conosco. Questa sembra promettere bene. Quando uno o più dinosauri che controlli attaccano, crea altrettanti token tesori, ok? Quando lanci un artefatto, crei un dinosauro 3-1, triggera solo una volta. Questa, grazie, grazie, grazie. La segniamo e dopo la recuperiamo. Assolutamente, assolutamente sì. Spade a spighe del Secret Layer. Bella, l'abbiamo acquistato questo qui, tanta tanta roba, ci piace davvero davvero tanto. Le abbiamo tutte nell'album, non l'abbiamo smontato. Fatto il design del Secret Layer, dove è Fibble Tip? Sì, di Fibble Tip. Dov'è Fibble Tip? Non lo so, anche perché si vede quello che si vede, ragazzi e ragazzi. Non perché ci mandate voi i filmati a qualità bassa, perché lavorandole e tutto, sapete, insomma, ci dobbiamo lavorare un po'. Sitting Song, non so, cioè, è forte per carità, da testare Apostle Blessing. Sempre è utile. Protegge, sempre è utile. Sì, Sava Jorder. Che fa da Natural Order, praticamente. Anche lei non l'abbiamo messa. Bella l'arte, comunque. Far Seek. Reperto a Ramp. Sì, direi proprio di sì. Ok. Red Elemental Blast. Devono giocarti il Blue Contro in tantissimi per giocarla, così direi. No, su Survival. Per riprendere cose dal cimitero. Cultivate, bella. Bellissima, bellissima, start. Dovremmo averne un paio, perché non abbiamo preso Secret Player, ma ne abbiamo comprate. Le abbiamo comprate, quindi ci sono, ci sono. World e Tutor, anche questo, tanta roba. Arrow. Arrow, ok, perfetto. Classico, Erfice. Classicissimo. Bella, 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 bella. Final Devastation così, non l'ho mai presa e mi piace davvero tantissimo. Penso che la compreremo, vero? Anche l'art normale, che c'è il dinosauro, è comunque bellissima, però questa... Qui ce n'è di più. Con i dinosauri che spaccano la... Bellissimo. Troppo bella. Bella, 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 bravo. Bravo, come al solito, veramente. Force of Vigor. Ottimo, perfetto, buona carta. Purtroppo ne abbiamo poche. The Ferris Protection. Ci sta. Perfetto, perfetto. Andiamo avanti con gli artefatti. Uh, allora, Scroll Hack. Scroll Hack, Foil, del Front of the Vault, se non ho visto male, sì, è del Front of the Vault. Sì. Ok, perfetto, quindi esiste solo Foil, tanta roba. Line Graves, bella, bella. Tanta roba, non l'avevo mai vista. Purtroppo, ragazzi, ormai ci sono talmente tante versioni che anche qui... Ce ne perdiamo sempre qualcuna. E scopriamo sempre qualcuna nuova ogni volta, grazie a voi, Monolito di Basalto. Monolito, Arkane Sicknet. Che insignia è tutta tanta roba. Bello. Bello, bello, bello. Ho comprato i quattro foil full art all'epoca. Di questi qua non ne ho bisogno, però bellissima start. Sì. Davvero, davvero bella ed è foil, quindi sta un bel po' di soldi questa, ragazzi. Non so a quanti, ma sta un bel po' di soldi. Hai fatto un'ottima scelta sia di carta che di versione. Anche l'Otus Petal sta a tipo infinito adesso. Li ho ritirati fuori, ne ho veramente un migliaio nell'album. Rubi Medallion, Foil, che adesso ristampano in Modern Horizons. Chrome Mox. Bene. Il grande Monolito. Foil, bravissimo. Ce l'ho anch'io così con la forchettina. Poi abbiamo un Sol Ring, molto bello. Cavolo che bello. Un molto bel Sol Ring. Ci manca, ci manca. Questo ci manca. Da comprare. Sì, assolutamente. Ragazzi, ragazzi, chiudiamo, penso, con Manavolt. Abbiamo chiuso con Manavolt, con una bella, guarda che pulizia. È un'ottima chiusura. Guarda che pulizia. Guarda che bella. Guarda che bella. Ma io sinceramente, lo sapevo, non mi aspettavo assolutamente di meno. Ragazzi, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto e speriamo anche che le reaction possano tornare più frequentemente. Vabbè, ma alla fine sta anche a voi. Seguiteci sui social e continuate a mandarci in privato i vostri bei... Cazzi! Mazzi! Ah, sì, sì. Mazzi, mazzi. Mandateci i vostri bei mazzoni che Moxie così li vede e poi facciamo le reaction. Mi raccomando, vogliamo vedere roba bella. Trovate tutti i link in descrizione, i codici sconto, car trader, a te, eccetera, eccetera. Ciao a tutti da Omega. Un bacio da Moxie. Grazie a tutti e alla prossima. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti.